benvenuti in questo nostro viaggio attraverso i territori della trasformazione digitale perché lo chiamo viaggio e non corso quando pensiamo ad un corso pensiamo ad una serie di lezioni che spesso ci fanno acquisire una preparazione tecnica pratica diciamo che ne so fare un corso di recitazione un corso per diventare per lettere un corso di programmazione di fotografia in particolare in questo momento di grande rivoluzione sono presenti sul mercato una quantità smisurata di corsi di formazione per aiutarci a dominare questo a quella tecnologia questo a quella piattaforma instagram linkedin facebook eccetera quanto dobbiamo lavorare per colmare i nostri posti di conoscenza oggi in particolare tanto tantissimo insomma l'offerta formativa di contenuti per questa o quella tecnologia questo o quello strumento quella o questa o quella piattaforma è veramente ampia davvero ampia dal mio piccolo osservatore mi è sembrato invece che fosse scarsamente presente un'offerta che avesse come obiettivo quello di fornire un supporto diciamo all'orientamento per tutti coloro che hanno l'onore e l'onere di guidare i processi di trasformazione delle proprie imprese e organizzazioni in genere quindi non un corso dove si imparano degli strumenti ma una specie di mappa che prova a mettere un po d'ordine nel complesso viaggio della trasformazione digitale se parliamo di viaggio non potevamo non evocare ulisse il viaggiatore per antonomasia quando mi capita di fare uno speech sul tema inizio sempre con questo pezzo di questo vecchio film per tre ragioni fondamentali la prima l'abbiamo detta il viaggio la trasformazione non è cosa veloce non è come cambiare un abito per questo la metafora del viaggio è perfetta poi ritorneremo su questo rapporto tra cambiamento e trasformazione il secondo punto riguarda l'attrazione al pari del nostro list diciamo attratto dal canto delle sirene sì perché tutti questi mirabolanti strumenti e tecnologie che promettono risultati eccezionali casi di studio dove si vedono persone di imprese che in pochi mesi hanno fatto crescere fatturato e clienti sono indubbiamente indubbiamente attraenti basta essere innovativi seguire qualche guru che ci raccomanda di uscire dalle zone di comfort e vai via il gioco è fatto come come può non attrarre una prospettiva simile il terzo punto riguarda invece il sentimento di smarrimento derivante dal fatto che le cose diciamo non sono proprio andate come ci si aspettava insomma quando abbiamo incominciato a fare le nostre cose ci siamo resi conto che i risultati non sono arrivati come ci eravamo immaginati nello scenario meraviglioso precedente magari in questo caso chiamiamo qualche altro fornitore una nuova agenzia un nuovo partner introduciamo una nuova tecnologia che ci magari consiglia nuove cose magari c'è pure anche ragione questa persona che ci consiglia nuove cose ma non abbiamo strumenti per capire se ha ragione o se seguire questa nuova strategia questa o quella strategia quindi smarrimento ed abbiamo la sensazione che la strada peritica sia ancora molto lontana bene in questo breve viaggio che faremo insieme in questo corso non corso proveremo a darvi qualche strumento per aumentare la vostra capacità di orientamento non daremo ricette ma butteremo per terra come il pollicino della della favola qualche minuzzola di pane per aiutarvi a trovare o forse meglio a ritrovare la strada per lo sviluppo felice della vostra impresa nell'era della trasformazione digitale grazie